Professor Piccinetti, da diverso tempo la costa fanese non solo è infestata da bocillaggini, sia in riva che a largo, perché si creano innanzitutto? È un fenomeno biologico normalissimo che si è sempre esistito, quindi non è una cosa nuova. Come comincia questo fenomeno? Ci sono delle alghe unicellulari, che sono delle diatomee, che vivono sul fondo del mare a una bassa profondità dove gli arriva un poco di luce. E in genere crescono come tutti gli organismi vegetali, ossia che hanno bisogno di sali minerali e di un certo momento che ci sia la temperatura idonea. Queste condizioni si verificano ogni tanto anche in natura, quindi noi da alcuni anni e quest'anno in particolare c'è una temperatura abbastanza calda. La temperatura calda cosa vuol dire? Questi organismi si moltiplicano più rapidamente, perché sono organismi unicellulari che si raddoppiano in funzione della temperatura. Alcune di queste specie di diatomee, che vivono sul fondo del mare a bassa profondità, a 10, 20, 30 metri al massimo, perché deve arrivarci anche la luce, si moltiplicano, moltiplicandosi però lo fanno sul fondo e producono un poco di muco, di gelatina, che la lasciano lì intorno, perché una cellula per dividersi in due hanno bisogno di farlo in una certa modalità e questa modalità deve avvenire in un ambiente protetto e protetto dalla gelatina. Dopo un po' tutta questa gelatina si comincia ad accumulare sul fondo e comincia ad avere uno spessore, due centimetri, tre centimetri, quando incomincia ad avere questo spessore un po' alla volta sul fondo cascano anche delle particelle di sostanza organica, che vanno in putrefazione, mineralizzazione normale, producono delle bollicine di gas. Queste bollicine di gas vengono inglobate in questo muco che sta sul fondo e un po' alla volta vengono portate in superficie. Che cosa provoca questa situazione di questo muco che è prodotto? Evidentemente è un muco che è un prodotto naturale, quindi non è un qualche cosa che possa dare un fastidio alla pelle, dare un fastidio a qualcuno, uccidere qualcuno, no, è una sostanza organica, quindi a un certo momento tranquillissima e non succede niente, solo che sporca. Se uno fa il bagno e si fa finire in questo muco, evidentemente si viene fuori con un po' di appiccicaticcio sopra, che non è piacevole, quindi bisogna farsi una doccia e se uno ha la doccia magari con un po' di acqua che non sia proprio gelata, gli va benissimo. C'è una soluzione affinché queste mucillagini prima o poi vadano via? No, la soluzione non c'è perché fino a che ci sono le condizioni, queste continuano a moltiplicarsi, loro si moltiplicano sul fondo, poi dal fondo un po' alla volta vengono in superficie, solo che provocano una serie di effetti e di conseguenze che sono anche molto più gravi. Innanzitutto questo muco sul fondo impedisce che una rete possa passare perché si appiccica sulla rete e dopo un po' quella appesantisce, perché la rete non funziona più, quindi uno deve pulire la rete con una grande frequenza, con un gran lavoro e molto spesso le perde perché aumenta il peso, quindi si rompono le corde, i cavi per tirarlo su eccetera. Ma oltre a questo, questo muco va anche a intasare un po' il raffreddamento dei motori perché praticamente intase i filtri e quindi c'è un sorriscaldamento con tutto un problema che si ottiene in questo. Che cosa succede inoltre? Inoltre che questo muco che sta sul fondo impedisce anche uno scambio di ossigeno tra il fondo e gli organismi che ci vivono, immaginiamo le vongole che stanno sul fondo, evidentemente non hanno più l'ossigeno sufficiente perché c'è questo filtro di sostanza organica che sta lì e questo in alcuni casi se dura molto, due o tre giorni le vongole resistono, ma non possono resistere un mese in queste condizioni ed ecco che quindi a un certo punto ci sono dei danni anche alle risorse biologiche e agli organismi di fondo. Ecco, oltre alle vongole c'è qualche altra specie marina che ne risente? Tutte quelle che non possono scappare, possono essere i cannelli, possono essere le stelline, possono essere i bombolini, tutti quelli che non possono dal fondo venire via e venire verso la superficie. I pesci scappano, i pesci evidentemente quando manca l'ossigeno viene un po' più sopra, si alza, si muove, chi riesce a camminare non ha un grosso effetto perché nella massa d'acqua sopra l'ossigeno c'è, quindi per poter vivere gli organismi continuano a vivere. Chi è che è legato al mondo, che non riesce a nuotare, come ci sono molti organismi, le ostre che non nuotano, quindi se stanno sul fondo manca l'ossigeno, dopo una settimana muoiono, questo è normale.